In un tipico quartiere americano un bel giorno arriva la famiglia perfetta, marito, moglie, figlio e figlia adolescenti. Si chiamano i Jones e sono fighissimi, hanno l'ultimo modello di macchina, di vestito, hanno tutte le cose più alla moda e molto rapidamente diventano un modello da seguire. I Jones è un titolo che fa riferimento a un modo di dire americano, keeping up with the Jones vuol dire stare al passo con i vicini, stare al passo proprio con i vicini che invidiamo, quelli che sono il nostro modello di vita. Il punto è che questi Jones del film non sono una famiglia vera, sono in realtà degli influencer, potremmo dire oggi, che sono di fatto pagati per propagandare un modo di vita che si vuole vendere a tutti quelli del vicinato. È una forma nuova di pubblicità, molto insidiosa, e che è il modo metaforico con cui il regista lancia i suoi strali verso la pubblicità. Derek Burt, che è il regista e anche sceneggiatore di questo film, ha lavorato a lungo in pubblicità, evidentemente vuole farsi perdonare qualcosa che ritiene essere stato discutibile. Per cui questo film è una satira, ovviamente, tra commedia e dramma, proprio dei meccanismi di manipolazione occulta del desiderio che ci spingono a voler comprare delle cose di cui non abbiamo bisogno. La tesi del film è proprio questa, che la pubblicità di fatto instilli infelicità perché ci crea dei bisogni artificiali che poi noi cerchiamo in qualche modo di soddisfare. Un bel cast, il protagonista è David Duchovny, insieme a Demi Moore, sono i due genitori, e la figlia interpretata da Amber Heard, ma soprattutto la star del film è il meccanismo. L'idea che la famiglia accanto, che ci fa venire l'idea di una cosa nuova che vorremmo comprare, in realtà sia lì proprio per farci venire questo desiderio.